Alfa Romeo 155, prodotta dal 1992 al 1998, era la berlina media secondo la casa del Bichon e di Arizzi, disegnata dal Bustock Spada, che è la persona responsabile di macchine meravigliose come l'Aston Martin DB4 GT Zagato oppure la Giulia TZ. Con la 155 l'Alfa Romeo lascia sullo scaffale il transaxle e passa alla trazione anteriore a quattro ruote indipendenti. Varie le motorizzazioni disponibili, dall'8valvole Twin Spark al 16valvole Prato La Serra, per parlare del 16valvole Turbo, quello derivato dalla Delta, e poi il solito meraviglioso V6 di busso. Altra novità della 155 è il layout del motore, questa volta è montato trasversale. Bellissime poi le serie speciali come la 155 GTA, la GTA Z, la Silverstone. Ne esiste persino una versione speciale apposta per il Giappone, V6 sportiva Giappone. Ha corso? Ha corso, ha vinto? Ha vinto, ha vinto. Tra l'altro con piloti del calibro di Nannini, Tamburini, Giovanardi, per non parlare poi di quel grillo di Tarquini. Che macchina, tu te la ricordavi?